Ritengo che Torreguaceto rappresenti un patrimonio ambientale di valenza internazionale e non locale, o meglio localistico, uno scrigno di valori che per essere perseguiti efficacemente meriterebbero un ripensamento dell'attuale struttura di governance. Con queste parole e una breve nota diffusa ai giornali, Nicolò Carnimeo si è dimesso dalla carica di vicepresidente del Consorzio di Torreguaceto. Docente di navigazione all'Università di Bari, Carnimeo, già presidente di WWF Puglia, era al suo quarto mandato come vicepresidente a Guaceto, proprio in quota al WWF. Sono stati anni difficili ma anche colmi di soddisfazioni, scrive Carnimeo, nei quali grazie all'apporto fondamentale della nostra associazione sono stati raggiunti importanti traguardi e risultati nella tutela dell'ambiente e nella gestione sostenibile dell'area protetta. L'ultimo CDA si caratterizza invece per una struttura verticistica con la quale è risultato molto difficile collaborare e nella quale ho visto troppo spesso negate e marginalizzate le mie istanze e quelle dell'associazione che rappresento. Oggi, alla presidenza del CDA, c'è Corrado Tarantino dopo la nomina nel maggio del 2019 in cui venne indicato anche un secondo vicepresidente in quota al comune di Brindisi nella persona di Teodoro Piscopiello. Gli altri tre componenti del Consiglio di Amministrazione sono Vito Uggenti per Carovigno, Vincenzo De Bonis per Brindisi e Lara Marchetta per il WWF.